Ciao, sono Beatrice Bugatti, ho 14 anni, sono alta 1,48 m, vivo a Roma e sono la prima di tre figli. Sono una studentessa e frequento il primo anno di liceo artistico. L'ho scelto perché mi piace ogni tipo di arte. Ho scoperto la passione per la recitazione nel 2019 iniziando a studiare recitazione teatrale. Quest'anno ho intrapreso un percorso di recitazione cinematografica presso l'Accademia Professione Artista ed ho scoperto che quello era il mio sogno. Oltre alla scuola studio urban, un tipo di danza che mi aiuta a scaricare le energie. Mi piace passare il mio tempo libero guardando le serie tv e i film. Questi sono i miei profili. e queste le mie mani. Grazie, ciao a tutti.